E' finito nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo il 24enne di origini marocchine che con la sua Opel Corsa ha travolto e ucciso Chiara Scardino. Una vita spezzata, a 18 anni, sulla provinciale che da Porto Cesario giunge a Torre Lapillo. Una tragedia l'ennesima sulla via dei Lidi, dove meno di un anno fa ha perso la vita la bolognese 23enne Anna Inorta, il magistrato di turno e il sostituto procuratore Giovanni Gagliotta vuole vederci chiaro. L'iscrizione nel registro degli indagati del 24enne residente a Porto Cesario è un atto dovuto, in vista della visita esterna sul corpo della 18enne. Se ne è occupato il medico legale Alberto Tortorella, a cui il pubblico ministero ha conferito l'incarico. Chiara è morta per il trauma cervicale riportato col violento impatto, intanto gli accertamenti condotti dai carabinieri di Campi sono in corso per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente che si è verificato nella notte tra sabato e domenica vicino a Lido Tabù. La giovane studentessa leccese del liceo classico Palmieri stava rientrando nella sua abitazione estiva di Porto Cesario a bordo dello scooter, quando l'uomo con la sua auto l'ha travolta e l'ha sbalzata sull'asfalto dopo averla violentemente tamponata. In auto c'era anche un suo connazionale, nonostante indossasse il casco Chiara è morta sul colpo.